Un 8 marzo anomalo senza manifestazioni, convegni e altri eventi per l'emergenza sanitaria ma resta comunque una giornata, quella internazionale della donna, di riflessione. Le disuguaglianze di genere sono evidenti a cominciare dal lavoro, in particolare dal divario salariale che appare ancora incolmabile in Italia e in Europa. Disuguaglianze di genere che nelle marche sono ancora troppo pesanti, dicono CGL, Cisle, Will e regionali e ciò è evidente nei livelli di inquadramento, nei percorsi di avanzamento di carriera, nelle retribuzioni. Sì, perché le lavoratrici marchigiane, che hanno già una retribuzione media annua inferiore su scala nazionale in un anno percepiscono oltre 7.000 euro lordi in meno rispetto ai lavoratori marchigiani. Le donne infatti utilizzano per esempio sempre più spesso degli uomini il part-time e sono impiegate in lavori o settori più poveri.